Con Danila Corsi che è la presidente dell'Anfas di Martinsicuro, cos'è l'Anfas? L'Anfas è una grande associazione nazionale di famiglie, di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. La più grande associazione nazionale, ci sono oltre 200 sezioni in Italia, che riguarda questo tipo di disabilità. Martinsicuro, una delle 12 sedi abruzzesi, è stata istituita nel 1993. Sono 30 anni di attività, da poco compiuti. Anfas a Martinsicuro rappresenta un punto di riferimento per famiglie e coloro che fruiscono del centro. Come si sviluppano le attività? Anfas è da 30 anni un punto di riferimento per la Val Vibrata e anche per i comuni della costa, Teramana. Per le famiglie, senza altro. Adesso devo dire che Anfas sta facendo un percorso, Anfas nazionale, quindi tutte le sedi Anfas, un percorso di valorizzazione e riconoscimento anche della persona con disabilità. Per cui ci sono gli autorappresentanti, le persone con disabilità, diciamo, in grado di esprimere le proprie esigenze e i propri pensieri, possono farlo liberamente in seno ad Anfas. Quindi non è solo riferimento per le famiglie, ma sono protagoniste le stesse persone con disabilità. Noi all'inizio siamo stati un punto di riferimento per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Diritti nell'ambito scolastico, nell'ambito sanitario, nell'ambito sociale. Successivamente alla fondazione, diciamo, nel 2000 abbiamo aperto il centro di urno, il centro di urno integrato, la rosa-blu. Il centro di urno è stato ed è tuttora un riferimento per i giovani, le giovani, che hanno terminato il ciclo degli studi e quindi, diciamo, non avrebbero altra prospettiva se non quello della vita familiare. Quindi il centro di urno offre la possibilità di ritrovarsi, di svolgere laboratori interessanti per i ragazzi, insieme agli operatori e ai volontari. e laboratori di vario genere, laboratori artistici, musicali, laboratori di cucina, uso del personal computer, mantenimento delle attività, delle capacità di lettoscrittura che magari dopo la scuola possono essere un po' abbandonate e perse. E poi c'è la socializzazione, la possibilità di incontrare tante persone, di collaborare e quindi di mantenere vive i propri interessi e le proprie capacità di relazione. Questo è un aspetto veramente molto importante. Poi il nostro centro di urno ha sempre collaborato con, per esempio, con la scuola, con le scuole, quindi la presenza nel centro di alunni della scuola, dell'istituto comprensivo di Ipertini, oppure di altre scuole della Val Vibrata, e la presenza dei nostri ragazzi nell'ambito scolastico, magari per un'attività teatrale, con un'altra attività che viene svolta al centro molto importante, quella del teatro. Quindi questa collaborazione, questa rete con presenze vive, attive del territorio è fondamentale.